Buongiorno guys, è sabato ma è soprattutto la giornata di Italia-Austria, questa sera Wembley, quindi in Inghilterra, scenderanno in campo gli azzurri in occasione degli ottavi di Euro 2020. Forza ragazzi, regalateci un sogno, bisogna passare, imperativo categorico, però analizzeremo assieme poi quello che sarà stato l'andamento del match, ovviamente post-gara, proprio qua sul mio canale YouTube. Voglio parlare di Meri De Miral, perché ieri sera abbiamo riportato un'iniscrezione, una notizia, un articolo, proprio a firmare sottoscritto su gol.com, spiegando come nelle ultime ore a Milano ci siano stati dei movimenti sul fronte 23N centrale turco. Perché cosa è accaduto? È accaduto che il responsabile della retecnica juventina Federico Cherubini ha incontrato l'entourage di De Miral, un incontro pianificato, un incontro poi anche proiettato a comprendere cosa potrebbe accadere su questo fronte in chiave mercato. De Miral, lo sappiamo, non gli piace essere considerato un'alternativa, vuole essere centrale nel progetto tecnico. Per centrale nel progetto tecnico significa, in una sola parola, titolare. E questo concetto alla Juventus è difficile che possa essere poi garantito. Ovvio, ci sono delle gerarchie, il difensore più forte della Juve si chiama Matthijs Delic, che è l'unico intoccabile. C'è l'esperienza di Leonardo Bonucci, ci sarà probabilmente un rinnovo annuale per Giorgio Chiellini. E quantomeno al momento c'è anche il rientro al prestito dal Cagliari di Daniele Rugani, che, aperta parentesi, ha un contratto molto lungo. Insomma, cosa ha detto la Juventus all'entourage di De Miral? Che sono disponibili a valutare eventuali offerte tra i 45 e 40 milioni. Quindi la Juve fissa come target per questa potenziale cessione questa cifra, 45 e 40 milioni. Che probabilmente, forse un po' fuori mercato, considerando come De Miral nell'ultima stagione con tantissimi infortuni, la Juventus abbia giocato poco e considerando anche l'europeo disputato dalla Turchia, grossissimo flop con De Miral, sicuramente che non è che è ben figurato, sfortunato contro l'Italia in occasione dell'autorete. In generale, però, se si pensava che, in questo caso, l'Euro 2020 potesse diventare un alleato per la Juventus sul fronte di De Miral per una potenziale cessione, beh, non è così, non è stato così. In generale, riflessione. È chiaro che da un punto di vista anagrafico pensare di vendere De Miral, magari di andare avanti con Chiellini e Bonucci, può essere visto un pochettino come anacronistico. Però bisogna anche comprendere poi gli umori all'interno di uno spogliatoio. In più live, ho detto come a me risultasse che nella prima partita del 2021 della Juventus, quindi la vecchia signora contro l'Udinese, De Miral al termine del match si fosse arrabbiato in quanto non aveva cimolato neanche un secondo di quella gara. Cosa significa? Significa che De Miral, dipendesse da lui, vorrebbe giocarle tutte. E io credo che poi non si possa attribuire a drapirlo una malgestione di De Miral, perché quando l'ha avuto a disposizione, di più delle volte l'ha fatto giocare. E poi sono stati tanti gli stop durante questa stagione che hanno condizionato l'ascesi De Miral e che quindi poi sono anche spociati in un minutaggio piuttosto basso. È chiaro che io continuo a pensare che De Miral a 23 anni ebbe grossissime potenzialità. A me è un difensore che potenzialmente piace troppo, piace tanto. Perché dico potenzialmente? Perché comunque ci sono ancora dei limiti da migliorare. Basti pensare anche a Juventus Porto, un fallo molto ingenuo che porta poi i Lusitani sul dischetto. Basti pensare anche a Verona Juve, dove una sua lettura sbagliata poi porta, nello svolgimento dell'azione, al parigi di Barak. Insomma, De Miral quest'anno comunque ha anche commesso delle ingenuità che sono poi da attribuire anche il percorso di crescita di un classe 98. Quando parliamo di De Miral non parliamo di un veterano. E quindi i Gioni, secondo me, hanno il sacrosanto diritto di sbagliare. E i tifosi devono avere la sacrosanta pazienza di aspettarli. Questo vale per De Miral, ma vale anche per Kuruseski, vale per Chiesa. C'è chi è un po' più pronto. C'è chi invece ha bisogno di seguire un certo tipo di percorso che passa inevitabilmente anche dagli errori. Perché gli errori comunque ti forgiano, gli errori ti cambiano, gli errori ti portano anche a svegliarti, gli errori ti fanno comprendere cosa significhi, nel caso specifico, sfoggiare la casacca juventina. Quindi io in generale sarei sempre per la permanenza di questi giocatori che sono futuribili e sul potenziale, non dico garantito, però quando vediamo De Miral vediamo un prospetto notevole, e vediamo delle qualità piuttosto palesi che se sgrezzate possono portare quindi il turco a diventare un signor difensore, ammesso che già non lo sia. Però gli umori di uno spogliatoio sono fondamentali. Se alla prima panchina fai il muso, se alla seconda panchina ti incazzi, se alla terza chiedi la cessione, allora a quel punto tanto vale non partire assieme, perché poi significerebbe avere un problema sicuro all'interno dell'annata. A livello caratteriale, io però non conosco né De Miral né Benatia, mi sembra che però il turco abbia delle somiglianze piuttosto nette, con il carattere focoso di Benatia. Vedo delle analogie da questo punto di vista. De Miral, tra l'altro, ribadisco, a me piace tanto, così come mi piaceva tantissimo Benatia, che probabilmente certe volte aveva delle amnisi e tecnico-tattiche piuttosto significative, ma in generale quando io vedevo una Juventus con Benatia, scusate, titolare, comunque si potevano dormire sogni tranquilli. Quindi è chiaro che qualora De Miral dovesse lasciare la Juventus subenterebbe anche un po' di dispiacere, perché sembrerebbe poi un percorso incompiuto, ma bisogna fare i conti davvero con la volontà e il diretto interessato, che se pone come condizione principale che debba giocarle tutte, o che comunque si debba sentire essere considerato tutti i defetti un titolare, io credo che sia poco realistico che la Juventus si possa centrare a questo tipo di missione, perché a parte pochi eletti, non ci sono posti garantiti, e io credo che, ribadisco, il difensore più forte della Juve si chiami Matthijs De Ligt, poi c'è Bonucci, poi c'è Chiellini, e quindi De Miral, non dico che faticherebbe le sette camicie, scusate gioco di parole, per trovare un posto da titolare, però, in generale, quantomeno in rampa di lancio, quantomeno nell'ordine girarchico, non partirebbe come titolare. E quindi, credo che in maniera molto tranquilla, però con le idee chiare, la Juventus debba tutelare anche questo tipo di investimento, è questa potenziale cessione che garantirebbe, secondo me, una discreta entrata. De Miral, vuoi per ingaggio, vuoi per componente anagrafica, è uno di quei pochi calciatori della Juventus che sono vendibili, non è un caso che, per esempio, nelle scorse settimane si sia parlato tanto dell'Atalanta, non è un caso che nelle ultime ore si sia parlato tanto della Roma, perché, comunque, a livello di ingaggio, De Miral è un giocatore accessibile, e quindi spendibile, è in Italia e all'estero. Cosa accadrà ora? Accadrà che le parti si riaggiorneranno, intanto questo primo colloquio, c'è stato un'escorsione a Milano, faccia a faccia tra Cherubini e gli agenti De Miral, è servito però a capire, a comprendere come si debba registrare la situazione, perché se un giocatore vuole essere considerato un centrale del progetto, e invece, parallelamente, una società fissa anche il prezzo per la potenziale cessione, sicuramente non stiamo parlando affatto di un giocatore incedibile, però, se la Juve ha detto all'entura di De Miral, portateci offerte per 45-40 milioni, e beh, ora va effettuato un lavoro di scouting da questo punto di vista, trovare eventuali acquirenti e, quindi, eventualmente, portare queste offerte all'attenzione di Cherubini. Se partisse De Miral, la Juventus andrebbe a sostituirlo o conferberebbe Daniele Rugani? Questo è un altro buon interrogativo che lecito Porsi e che va poi ad associarsi al discorso che vi ho fatto ieri, quando vi ho detto che la Juventus non intende più incentivare all'esodo, quindi pagare ai giocatori affinché se ne vadano, o contribuire nel pagamento dei prestiti, quindi io ti do Rugani e magari ti pago il 20-30% di ingaggio. Questa politica, al momento, non mi sembra che entusiasmi il nuovo management. Monitoriamo la situazione, perché non è un discorso che va effettuato esclusivamente su Rugani, ma va anche esteso quando parliamo di Perini, Luca Pellegrini, probabilmente di Mattia Desciglio, di Marco Piazza, insomma. La Juve dovrà inevitabilmente sfoltire, premessa, non sono giocatori incedibili questi, però, al momento, la Juventus non ha nessuna intenzione, quindi, di aiutare altre società ad acquisire tesserati da Juventus, contribuendo sull'ingaggio. Questo è la Palissiano, è giusto, soprattutto va in virtù, in considerazione, di tutto ciò che non è stato programmato sapentemente negli ultimi tempi. La sostenibilità è fondamentale. La Juve ha già un monte ingaggi spropositato, molto, molto complicato da potare, e quindi, se si può evitare di pagare i giocatori affinché vadano altre parti, credo che sia cosa buona e giusta. Intanto questo, però, è il quadro su De Miralvi. Do appuntamento a questa sera, mi raccomando, Forza Azzurri, e mi raccomando, in generale, se ti fate Juventus e anche te in Italia, iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella e mettete like ai miei contenuti. Un abbraccio!